Viste quali sono le sensazioni dopo questo secondo test stagionale? No, sensazioni buone, non bisogna mai, anche se un amichevole, quando c'è comunque una sconfitta. Il risultato in questo momento qua, tra virgolette, relativo, è molto più importante valutare la prestazione, credo che la prestazione sia stata buona, al primo tempo siamo stati padroni della gara, abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti e la squadra sta crescendo, le cose cominciamo a farle anche meglio, quindi buone sensazioni. Al di là del risultato a cui ho capito non teneva particolarmente, vista la rivoluzione che ha portato nell'intervallo, facendo giocare tutti, quindi è giusto non guardare troppo a queste cose a questo punto della stagione, c'è da valutare il riscontro tra il lavoro del ritiro e quello che matura sul campo, no? Sì, assolutamente, in questo momento qua l'obiettivo è dare a tutti i ragazzi la possibilità di avere comunque dei minuti e di giocare. Poi al di là di questo c'è da valutare la prestazione che, ripeto, per me è molto buona, perché si incomincia a vedere le cose che stiamo lavorando durante questo ritiro e sono contento sotto questo punto di vista. Poi ci sono cose magari un po' meno allenabili, come la fame di gol, che magari qualche buona occasione l'abbiamo avuta e l'abbiamo anche sbagliata, e lì è difficile poi incidere. Sì, no, no, ma non credo che sia la fame, non credo che ci manchi la fame di gol, assolutamente, semplicemente l'importante è crearle le situazioni, le abbiamo create, ripeto, 4-5 abbastanza chiare, abbiamo concesso quasi nulla, quindi l'importante è crearle e poi sicuramente quando c'è da farle li faremo. Poi siccome, bisogna guardare anche i numeri, questa è una squadra che sabato ha battuto il Bovici ad Orpun, che non è proprio l'ultima arrivata, quindi vuol dire che è una squadra che ha un certo livello fisico, ecco, la risposta sul piano fisico della squadra come è stata? Mi è perso comunque che nel finale, anche grazie agli guizi di Camarà, però la squadra era viva. Sì, sì, no, no, squadra era viva, credo che abbiamo pressato benissimo fino alla fine, anche quello è comunque frutto di quello che stiamo lavorando in questi giorni, perché comunque abbiamo lavorato abbastanza anche l'intensità per quanto riguarda il pressing, e la risposta è stata buona. Un'ultima cosa da parte mia, Som diventa matto, in quel modo lì, sul piano della corsa, ha un bel lavoro davanti. Sì, no, 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 oggi ha fatto benissimo Simon, credo che sia un profilo che possa fare quel tipo di lavoro ora, ci lavoreremo e vedremo per oggi, credo che la sua prestazione sia stata ottima.